Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 13 maggio e facciamo il punto della situazione per quanto riguarda sempre lo stesso argomento, ormai è un'abitudine, però sempre più ottimistica direi, perché non si segnalano nuovi casi positivi, quindi la situazione, come ho già detto nelle altre comunicazioni, si è stabilizzata, si sta stabilizzando e quindi continuiamo così perché effettivamente i risultati si sono visti e quindi è senz'altro una ottima prospettiva per ottenere poi una maggiore libertà, come già in parte è stato fatto con i provvedimenti recenti che vedremo quali sviluppo avranno nei prossimi giorni. Quindi la riunione del Comitato Operativo Comunale che segue da vicino quotidianamente questa situazione, in base ai dati pervenuti dalla Regione ci può dare ancora maggior speranza in quanto abbiamo fatto 79 tamponi, positivi in isolamento sono 20, sono 3 pazienti in sorveglianza attiva a domicilio e dei residenti 2 ceduti sono 7, quindi per quanto riguarda questi numeri aggiungiamo anche il dato dei 5 guariti, fra cui anche alcuni del personale che lavorano alla nostra casa di riposo, quindi sono rientrati in servizio e anche questo è un ottimo segnale del fatto che alcuni addirittura asintomatici hanno praticamente recuperato completamente la loro capacità lavorativa e quindi assolutamente in sicurezza sono ritornati nella struttura. Allora, questa settimana abbiamo ricevuto un congruo numero di mascherine dalla Regione tramite la protezione civile, sono arrivate 2200 mascherine per Morozzo e quindi in base alla possibilità di distribuirle a domicilio con un gruppo di volontari, quindi voglio ringraziare i consiglieri comunali che partecipano anche a questa attività, la Croce Rossa con i volontari, il gruppo Alpini di Morozzo e anche i Vigili del Fuoco con il nostro gruppo dei volontari, non i vigili, tutti quelli che sono sempre disponibili in questa nuova distribuzione che avverrà appunto sabato e al mattino incominciamo alle 8 e casa per casa si distribuiscono almeno una per abitante, quindi ognuno avrà la propria mascherina, già in più a quelle che abbiamo distribuito sempre gratuitamente qualche tempo fa e ne otteniamo ancora poi alcune qui anche a disposizione della casa di riposo o per chi magari ne avesse poi smarrita o avesse dei problemi, in ogni caso qualche mascherina a disposizione in più ci potrà essere. Altre cose non ne aggiungerei, aspettiamo con fiducia quello che sono in base al prossimo DPCM le disposizioni a livello nazionale, abbiamo avuto la possibilità di uscire di casa, di poter frequentare all'aperto sempre con questa attenzione delle mascherine, se incontriamo qualcuno, le distanze per queste attività sportive, andare a far la camminata. Continuano a esserci limiti per le attività cosiddette ludiche, quindi picnic oppure fermarsi su una panchina a parlare con qualcuno o magari al mercato in piazza dopo aver fatto la spesa, fermarsi a fare quattro parole. Ecco, queste cose non possiamo ancora considerarle possibili, quindi rimaniamo sempre in questa linea di rispetto delle regole e penso che avremo dei buoni risultati, come già è successo. Buona settimana!